Ma se avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni. Ma bello ammetto che mi son sbagliato e accetto il crucifige e così sia... Ragazzacci, grazie di aver visitato il canale YouTube ufficiale di The Voice. Prima di andare via, cliccate qui. Ragazzacci, per continuare a vedere questo video e molti altri, potete cliccare su thevoiceofitaly.rai.it This is The Voice.